L'amore è la forza che trasforma e migliora l'anima del mondo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, quella che avete appena visto e sentito è una delle frasi che mi ha colpito di più del libro di cui andremo a parlare oggi, che è l'alchimista, è uno dei più famosi libri, probabilmente il più famoso di Paolo Coelho e era tra i libri che erano in lista da un po' perché appunto mi mancava questa pietra miliare della letteratura, almeno di viaggio, e vi do leggermente qualche riferimento, vi dico che il protagonista di questo libro è Santiago, un pastore andaluso che affronta un viaggio verso le piramidi alla ricerca di un tesoro. Non andrò più nello specifico per quanto riguarda la trama, vi dico che comunque è la storia di un viaggio della svolta non solo reale ma soprattutto introspettivo. Il libro l'ho trovato leggero e molto veloce da leggere, la lettura per l'appunto è scorrevole e piacevole ma nasconde comunque una grande saggezza nella sua semplicità, in quanto fa riflettere sul vero valore delle cose. Quindi non posso far altro che consigliarvelo e lo consiglio soprattutto a chi vuole aprire la propria visione della vita a nuove prospettive. Io su questo libro non ho nient'altro da dirvi, abbastanza corto, appunto vi ho detto consigliatissimo, soprattutto se siete appassionati di letteratura di viaggio. Se l'avete già letto è obbligatorio lasciare un commento qui sotto in cui mi fate sapere cosa ne pensate. Sempre qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e trovate anche un link da Amazon che vi porta alla lista dei libri che ho già recensito e a cui potete dare un'occhiata. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non lo siete perché arriveranno altri video. Noi ci vediamo la prossima settimana, have a nice life!